Sembra di essere in montagna invece siamo in Puglia a Mola di Pari e questa è una delle tante proposte previste nella manifestazione Natale a Mola. C'è la pista di ghiaccio e i bambini si stanno divertendo un mondo. Second day of Christmas, my true love gave to me, two turtle doves and a partridge in a petri. Ed eccoci in compagnia del sindaco di Mola che ci spiega un po' come si svolgerà questa manifestazione. Allora questa manifestazione di oggi si inserisce in un percorso natalizio che è iniziato il 6 dicembre e si concluderà il 6 gennaio. Oltre a un momento di allegria con tanti artisti di strada c'è anche il momento dedicato alle tradizioni. Man mano che ci avviciniamo al Natale, la settimana natalizia sarà sempre più intenso. C'è il momento per i bambini, per gli adulti, il momento delle tradizioni ma anche il momento dei canti popolari, il momento anche di tutti gli eventi più moderni. Cosa dirvi di più? Vi consiglio semplicemente di venire qui, tanto le manifestazioni andranno avanti fino al 6 gennaio. Venite a Mola di Pari!